Aspettando Cantiano Fiera Cavalli che il 30 aprile e primo maggio tornerà a Chiaserna in una inedita versione primaverile, la rassegna cantianese ha avuto una sua piccola anteprima a Pesaro nell'ambito del progetto allargato all'intera provincia di Pesaro, capitale della cultura 2024. Così per una domenica i maestosi cavalli del Catria sono scesi dalla montagna alla costa per farsi ammirare e per offrire i primi rudimenti di equitazione con il battesimo della sella dedicato ai più piccoli. In questo percorso virtuale della nostra provincia dal mare alla montagna al massiccio del Monte Catria questa sinergia tra i territori che valorizzano e puntano sulle proprie eccellenze. Il cavallo del Catria è l'unica razza autoctona della regione Marche all'interno della quale creiamo un grande contenitore che per quest'anno, per la prima volta, si presenta in una veste primaverile. Il prossimo 30 aprile e primo maggio a Cantiano nella frazione di Chiaserna si terrà queste due giorni dedicata al cavallo del Catria, a tutti gli sport equestri, alle nostre eccellenze ambientali e al nostro paniere di tipicità. Ripartiamo dopo il fermo pandemico dal 2019 con questa veste insolita, nuova, in questo meccanismo di promozione territoriale ampio che tiene dentro tutta la nostra provincia. Quindi noi siamo fieri e ci fa piacere lanciarla da Pesaro oggi questa iniziativa con questa presenza simbolica che valorizza le nostre tipicità, il nostro cavallo, unica razza autoctona della regione Marche.